Buongiorno e benvenuti a questa diretta della Zuppa di Porro di oggi 10 luglio. Quali sono le notizie della giornata? È presto detto, perché il Corriere, ma non solo il Corriere, titolo, no, il Corriere lo fa con forse maggiore attenzione rispetto agli altri giornali, sulle divisioni all'interno del governo, giallo-verde, sulle questioni del lavoro. Era facile prevedere, si capiva dalle interviste qua e là di alcuni esponenti della Lega, che la questione del decreto dignità, come lo chiamano in maniera picaresca i rappresentanti del popolo giallo, insomma è una enorme cagata. Tra le altre cose però, la cosa che non si sottolinea è che in realtà non vogliono far fuori il decreto dignità, ma vogliono semplicemente, con questo modo di fare un po' strambo, visto che hanno fatto il decreto dignità, che è un disastro per la flessibilità del mercato del lavoro, loro vogliono dare segnali al loro elettorato che loro invece sono, quindi della Lega, ovviamente questo fanno bene perché il segnale, oltre che la pratica, sarebbe buono, di aumentare la flessibilità, quindi tolgono la flessibilità sui contratti a tempo determinato, ma la Lega vuole reintrodurre i voucher, che sono l'elemento di maggiore flessibilità che si possa immaginare, perché i voucher sono altro che un contratto a tempo determinato, sono semplicemente il lavoretto anche di un giorno, di due giorni, di tre giorni, cioè il peggio del peggio, secondo la volgata, che il decreto dignità vuole cancellare. Quindi da una parte i contratti a tempo determinato diventano onerosissime, dall'altra si permette di mettere i voucher, io la trovo una cosa di una solidità totale, essendo a favore sia dei contratti a tempo determinato, sia ben chiaro dei voucher. Secondo Centinaio, il ministro dell'agricoltura, che domani incontrerò a Bruxelles, perché domani parleremo con la configricoltura di Dazzi, proprio a Bruxelles, Centinaio dice andiamo a perdere, a ricontrattualizzare 50.000 lavoratori, dice Centinaio, sarebbero 50.000 quelli che uscirebbero dal nero nell'agricoltura. Nel frattempo, mi sembra molto più interessante invece l'intervista a Bonometti, presidente della Confindustria Lombarda, roba seria, perché questo Bonometti, a differenza del presidente Erasso Lombarda, ma di tanti altri, ha un'azienda vera, la metalmeccanica, gente che alla fine deve pagare decine di stipendi alla fine del mese, Bonometti che cosa dice? Dice che questo decreto dignità è indignitoso, è imbarazzante e soprattutto, e lì è molto bravo Bonometti, in realtà smentisce le proposte fatte dalla Lega durante la campagna elettorale. Insomma, mi sembra molto interessante. Bisogna capire se a questi lombardi e a questi industriali imprenditori del nord bastano i voucher per poter mettersi d'accordo sull'impianto generale giuslavoristico di un governo che non ha molta arte né parte, nel senso che si improvvisano un po'. Si è visto anche sulle nomine, oggi tutti i giornali parlano dello stallo sulle nomine, ma anche questo lo trovo un po' normale, che arriva nella stanza dei bottoni, che non ci sono, non è che riesce a fare le nomine subito al capo della CDP o al dirigente generale del tesoro. Mi sembra che noi giornalisti su questo siamo un po' frettolosi, cioè vogliamo loro frettolosi e non capiamo che comunque in qualsiasi coalizione, in qualsiasi nuovo change of regime, beh, insomma un po' di tempo per fare le nomine ci sta, anche perché le nomine non sono una cosa orrenda, sono esattamente le persone chiave, in posti chiavi come CDP e Ministro del Tesoro. I giornalisti oggi si divertono a pensare che siano i ritardi nel Consiglio dei Ministri nel fare queste benedette nomine. Sul fronte economico c'è un'altra minchiata grossa come una capanna, che è quella dell'Ilva, non contento di aver perso, come sostiene Bentivogli oggi, che ha un caratterino un po' strano sto Bentivogli, però insomma la dice giusta sull'Ilva, insomma forse se facesse qualche intervista in meno al foglio e pensasse un po' più a fare il sindacalista farebbe il lavoro ancora migliore rispetto a quello ottimo che oggi sta facendo. Beh, Bentivogli dice ragazzi sono mesi, anni ormai che aspettiamo che si sblocchi la vendita dell'Ilva e voi state prendendo ancora tempo e dite meno disoccupati, meno licenziati e più ambiente. Beh, insomma aggiungo io, cosa che non dice Bentivogli, i licenziati, 3.500 licenziati ci sono esattamente perché si vuole più ambiente, nel senso che si è spento un forno, da il più importante forno, alto forno che c'era all'Ilva per motivi ambientali, con un commissariamento che ha bruciato 3 miliardi di euro negli ultimi anni, quando quell'azienda invece ne aveva di utile 600-700 milioni, ispropriata ai Riva. Siete tutti contenti, siete tutti felici e adesso portatevi a casa un po' di disoccupati, io sono tristissimo di questa cosa, per aver ucciso un'azienda la più importante del Sud Italia. Ma andiamo avanti sulla economia, oggi sono, ve lo dico dopo perché ci sono altre due notizie di politica estera, una riguarda Berlusconi che va da Erdogan, ha invitato in forma privata perché ovviamente non ha nessun ruolo politico e oggi Paola Di Caro che segue Berlusconi, insomma è un po' polemica con il Presidente Berlusconi, sul Corriere della Sera dice beh insomma c'erano soltanto Orban e Schroeder, perché nessuno ormai dei 28 capi europei lo sopporta. Io direi che ha ragione lei, la Paola Di Caro con quest'aria un po' diciamo innervosita della visita di Berlusconi a Erdogan alla sua grande cerimonia di investitura dove lui avrà poteri straordinari perché ha avuto la maggioranza dei voti turchi, ma c'è un piccolo problema che i 28 paesi sono degli ipocriti dei miei stivali perché da una parte non presenziano all'incontro per l'investitura di Erdogan e dall'altra invece danno 3 miliardi nostri dei contribuenti ai turchi perché non diventino una diga aperta nei confronti dell'immigrizione balcanica. Allora mettiamoci d'accordo amici miei, cioè se vi fa schifo Erdogan e non andate al suo convegno, alla sua investitura, beh allora non prendete i soldi cazzo miei per pagare lui perché questo è avvenuto nel passato per non far venire gli immigrati in Europa, mettiamoci d'accordo. Anche su questo Filippo Facci è durissimo oggi, dice il cavaliere ma come fai ad andare in ginocchio dal sultano turco, l'uomo meno democratico e meno... ma questa è un'altra posizione quella di Facci, quella di Facci è una posizione liberale che dice tu con questo non ci devi parlare e non vorrebbe neanche probabilmente dargli 3 miliardi. Quello che dico io, un po' di realpolitik, purtroppo in politica estera ci vuole, è lo stesso criterio per il quale Gheddafi, torturatore, odiava gli italiani, assassino, non voglio pensare quello che facesse nella sua vita privata, Gheddafi dopo che l'abbiamo ucciso e dopo che abbiamo sfottuto Berlusconi perché lo riceveva con tutti quanti i crismi diciamo dell'ufficialità, beh insomma abbiamo visto cosa è successo con il Coupe de Théâtre francese, una situazione disastrosa. Brexit, casino pazzesco in Inghilterra, lo spiega bene Sergio Romano, in Inghilterra è divisa, i conservatori sono divisi, i lord dei comuni sono divisi, è un casino bestiale, si dimettono Boris Johnson e il ministro della Brexit perché la signora May vorrebbe una Brexit un po' così, un po' colà, insomma sono incinta ma non tanto perché vorrebbe che ci fosse il libero scambio delle merci anche con la Gran Bretagna rispetto all'Europa. Cosa dice Romano e su questo lui ha perfettamente ragione? Beh insomma che in realtà questi Brexit, hard Brexit in realtà quello che vogliono è semplicemente prendere il posto della May, cosa che prima o poi faranno perché è una grande battaglia interna e arriviamo alle due ultime cosettine che secondo me sono divertenti, non sono le ultime due, ce ne sono tante altre, beh vabbè insomma sui naufragi, sui naufragi scusatemi è straordinaria la posizione del fatto perché io quando vedo Travaglio che difende Conte e dice i feriti, i morti nel Mediterraneo non sono certo colpa di Conte e poi l'approfondimento di Feltri sul fatto, Feltri, l'altro Feltri che dice non c'entra nulla il governo Conte, non Salvini, nella morte dei naufraghi sul Mediterraneo mi viene molto da ridere perché penso ai Saviano, ai Veronesi, a tutta quella gente là alimentata e coltivata dal fatto che fino a poco tempo fa invece si spiegava che se c'era un morto in Mediterraneo è sempre comunque colpa dei governi che in quel momento governavano. E a proposito di Conte c'è un'intervista imbarazzante sulla stampa, non perché in sé sia imbarazzante, un bellissimo colpo della stampa, tutti noi avremmo voluto intervistarlo, ma l'intervista è imbarazzante perché tutto un ma anche, cioè Veltroni gli fa una pippa, è una cosa incredibile, io ve le sono segnate, devo trovarle. Allora noi siamo per i porti chiusi e vogliamo stare attenti all'immigrazione, ma anche pensiamo che le ONG non siano niente male. Beh insomma il governo è unito e certo ma anche ci sono sensibilità diverse, ma vado avanti, che altri ma anche c'è? Bisogna andare a dare la dignità ai lavoratori, ai tempi determinati non funzionano, ma anche pensare a risolvere il problema dei consumi per dare fiato alle imprese, ma ancora? Bisogna assolutamente togliere le sanzioni della Russia perché non servono a niente? Ma anche non possiamo farlo certo dall'oggi al domani, è imbarazzante, è imbarazzante, cioè un uomo scisso si capisce tra Di Maio ma anche Salvini. Beh insomma se vedete l'intervista oggi sulla stampa lo capite perfettamente. Fantastico, oggi è una cosa che vi fa capire dove e come siamo fatti noi, cioè io penso che è più forte di noi l'ideologia comunista. Oggi ricorda un bellissimo pezzo veronese dove sono finiti i grandi leader del 68 sul giornale, ma perché dove è finita l'ideologia comunista? Lo vedi in una foto oggi sulla pagina, non so, 30 del Corriere della Sera, la pagina dei commenti che nessuno legge, ma io arrivo fino a là e ve la leggo per voi. C'è una foto di Portofino presa dall'alto, conosco bene Portofino e questo è il testo del lettore. Portofino invasa dagli ecomostri galleggianti. Quando verrà restituita ad una delle più belle baie al mondo la bellezza che si merita? Fottiti! Fottetevi! Perché non sai perché cosa facciamo? Portofino facciamo come era un tempo, facciamo che non era collegata a Santa Margherita, facciamo come un tempo che ci arrivavano i pescatori o i grandi signori che costruivano il castello Brown, facciamo come un tempo che i ricchi ci arrivavano e i poveri non venivano, facciamo come un tempo che togliamo questi ecomostri e così viviamo, come avveniva negli anni Sessanta, come dei pastori, facciamo come un tempo per cui gli ecomostri li tassiamo, facciamo come un tempo quando Rifonduzione Comunista prendeva quegli ecomostri galleggianti e spiegava che anche i ricchi dovevano piangere, facciamo come un tempo in cui non c'erano gli ecomostri perché andavano nel resto del mondo, andavano a Saint-Tropez, andavano a Ibiza, andavano in Grecia e l'Italia veniva utilizzata da quei barchettini per cui non si lavorava, non c'erano i porti, non c'era nessuno che gli vendeva le casse di bollicine, non c'era il caviale, che facciamo a Brescia e facciamo a Bergamo, ecco, facciamo come un tempo, facciamo una bella Italia agricola in cui non avremo neanche l'iPhone X con cui scattare quella cazzo di foto da mandare al Corriere della Sera, facciamo come un tempo, bello, bello, eh? Portofino invasa dagli ecomostri, ma che state dicendo? Ce ne vorrebbero dieci di ecomostri, se c'è una cosa che è sfigata in Italia purtroppo che le barche le abbiamo mandate via, io voglio cento ecomostri con cento russi che vengono là e spendono i milioni, milioni di euro, invece stiamo qua là a fare le foto al Corriere della Sera, ecco, questa è la mentalità dell'italiano rosicone e del Corriere che le pubblica. Altre cose che mi sono divertite sono le 560 scorte oggi sul fatto, guardatevele, perché ci sono dei personaggi incredibili, giornalisti che hanno la scorta e uno si chiede per quale cavolo motivo hanno la scorta, diverte anche l'idea che il fatto, l'unica scorta che vorrebbe dare è Ingroia, che mi sembra che la scorta dovrebbe averla qualche, secondo alcuni processi e secondo la mentalità del fatto per andare in carcere. Io direi che per il momento è tutto, vi do appuntamento come sempre a domani e vi, Matteo Renzi che vuole fare televisione su questo velo pietoso, penso a Presta, penso a Conte Mascetti che la televisione la fece cacciando quelli che volevano farla. Ciao!